si trova la maschera la sera ragioni come una persona non lui invece no le bifesco no vai su va su va 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 è un sollievo conversare con qualcuno al mio livello sono d'accordo la tua espusa corvo sono felice di vederti ancora vivo questo strumento ci per l'ho calibrato in modo tu puoi spostarti agevolmente incredibile l'arco è stato completato ora attiviamolo questo strumento ci permetterà di inviare un po' dovevo immaginarlo che avresti preso quando quest'arco sarà carico nessuno oserà avvicinarsi a noi s lo su 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 Semplicemente straordinario Distruzione su vasta scala Impossibile descriverlo Tante vite interrotte in un solo istante Ehi Ehi